Mark Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe valido per il Mondiale Moto, ad Austin in Texas. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di oltre 6 secondi Maverick Vinales su Yamaha, Andrea Iannone su Sudizu e Valentino Rossi su Yamaha. Quinto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Sesto posto per il francese Joan Zacco su Yamaha Monster, settimo per l'altra Honda ufficiale di Dani Pedroso. Chiudono la top ten lo spagnolo Tito Vatt, ottavo con la prima, l'australiano Jack Miller su Ducati Prama che decimo Alex Spargaro su Yamaha. Fuori dai primi dieci Giorgio Lorenzo con l'altra Ducati. Partito dalla quarta posizione in griglia dopo la penalizzazione di Nesca, Marquez ha ottenuto la sesta vittoria in carriera ad Austin. Nella classifica generale resta al comando Dovizioso con 46 punti. Giorgio Lorenzo con 46 punti.